Associazione di volontariato, cittadini italiani e stranieri, tutti assieme nell'ambito della giornata dedicata alla rigenerazione urbana. Ieri mattina hanno ripulito l'area dei bagni greci a Caposoprano. Si tratta di uno straordinario esempio di impianto termale risalente al IV-III secolo a.C., venuto alla luce nel 1957. È un'iniziativa importante perché il sito da tempo, purtroppo, a causa della mancanza di fondi, risultava in stato di abbandono. Abbiamo preceduto al cambio della tabellonistica, che risultava rovinata, alla pulizia delle aiole e alla pulizia dell'interno dei bagni greci. Un sito interessante, tra i più importanti nel mondo greco, tra i pochi esempi di impianto di tipo termale, che descrive una di quelle fasi della città, quella tra il IV e il III secolo, forse poco conosciuta, ma di grande valore. All'interno dell'area ci sono giovani archeologi che si rendono conto quando sia delicato e vulnerabile il sito. E quindi si fanno questa operazione con molta cura, con molta attenzione, e sicuramente saranno più sensibili un giorno a questi siti stessi. L'iniziativa rientra nel calendario della quarta edizione della Primavera dell'Arte. Siamo qui per rivalutare uno spazio dimenticato dalla cittadinanza, quindi siamo qui tutti giovani e adulti per portare valore a uno spazio, a un sito archeologico che era stato dimenticato un po' da tutti. Credo che questi qui siano i primi passi per far rinascere e far ricordare a tutti quelle che sono le nostre radici, quindi la nostra storia. È molto bello dare un contributo alla nostra città direttamente per un sito che è comunque molto importante, di IV secolo, e che andrebbe valorizzato maggiormente, non solo dal punto di vista della pulizia, ma anche dal punto di vista della fruizione per dei beni culturali che hanno questo valore molto grande. Per noi è importante dare il contributo alla città e in questo modo proviamo a rendere fruibile uno di questi archeologici meno considerati, forse a Gela, forse perché non si conosce, forse perché appunto non è mai aperto e mai visitabile. Alla manifestazione di ieri hanno aderito il gruppo archeologico Geloi, il Movi, la Casa del Volontariato, la Proloco Gela, Ship Lab, il Centro di Cultura e Spiritualità Salvatore Zuppardo, l'associazione Calliope e la cooperativa Tu come me. Come associazione abbiamo voluto esserci appunto per riportare, riportare, come si dice, pulire questo sito che altrimenti non era fruibile molto bene a causa delle erbacce e della sporcizia.